Ciao a tutti, dai piena espressione alle tue passioni. Noi dobbiamo dare, esprimere al meglio, esprimere al massimo quelle che sono le nostre passioni, quelle che sono le cose che ci piace fare. Perché queste passioni danno emozioni e le emozioni ci permettono di essere felici, essere in ammonia con noi stessi, essere in ammonia con noi stessi e con gli altri. Quindi dobbiamo evitare di castrare, di bloccare le nostre passioni, dobbiamo perseguirle comunque. Perseguire le nostre passioni vuol dire essere felici, perché andremo a sviluppare autostima, andremo a sviluppare forze interiori, andremo a sviluppare energie interiori. Quindi persegui le tue passioni se vuoi essere felice. Se tu castri le tue passioni e scegli di fare l'impiegato al catasto per la sicurezza del posto di lavoro, anziché fare il cantante rock, sarai un pessimo impiegato del catasto e la tua parte emotiva ti frustrerà, ti farà vivere l'indegnità perché non hai portato avanti la tua passione. Noi dobbiamo sempre seguire la nostra passione. È meglio sbagliare seguendo la nostra passione che fare le cose giuste seguendo le passioni di un altro. Quindi cerca di esprimere al massimo i tuoi talenti e le tue passioni e inevitabilmente riuscirai, inevitabilmente, perché tutto l'universo si metterà in moto per farti riuscire, per farti raggiungere gli obiettivi che vuoi raggiungere. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!